Buongiorno da mattino 6 per questo martedì 11 aprile, oggi si ricorda Santa Gemma, andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani iniziamo dalle pagine del centro nelle cronache della provincia di Pescara in apertura di Benedetto batte Pietrucci, l'aquila primaria del centro-sinistra testa a testa fino alla fine, a centro pagina la festa della polizia sempre al fianco dei cittadini, nelle cronache, scusate queste le sono le andiamo sulle cronache di Pescara, proprietario vuole vendere casa ma la trova occupata e poi ancora sempre sulle cronache in provincia di Pescara in 20 comuni bussi da T.H. per l'indagine epidemiologica e poi di taglio alto critiche al Papa, il parroco sospeso Montesilvano il Vescovo lo mette a riposo forzato dopo l'omelia di domenica all'interno è in fuga caccia il killer di Budrio a due identità il centro-destra Parisi cerca alleati in Abruzzo e poi lo sport il Pescara attende i campioni Juve biglietti in fumo in un'ora venduti tutti tagliandi per la gara di sabato, i tifosi infuriati il salone di Verone e i vini rossi d'Abruzzo conquistano l'Oriente sempre sulle pagine del centro, nelle cronache della provincia di Chieti Legnini elogia il polo del cuore, Chieti il vicepresidente del CSM visita il reparto, D'Alfonso rilancia sul nuovo ospedale ancora nelle cronache coniugi morti l'inchiesta va a rilento la Val Sinello, Golden Lady e Canali sperano gli ex lavoratori a Tessa malore fatale mentre pedala ex operaio Sevel cade dalla bici e era da poco in pensione e poi l'ospedale unico ecco come sarà avrà 600 posti, 14 sale operatori e costerà 220 milioni di euro questo sulle cronache di Teramo ancora la truffa delle azioni ex Tercas oggi il processo con 200 testi Giulianova ente porto scontro tra PD e articolo 1 e poi Teramo nuova giunta consiglio deserto di sensi nella maggioranza manca il numero legale le cronache della provincia di Laco il avezzano Marco il fratello dice voglio la verità sulla sua morte e poi luco il dolore del paese per l'addio ai due coniugi sul mona i riti della Pasqua applausi alla nuova quadriglia estratti i nomi della squadra che farà correre la Madonna titoli del messaggero nelle pagine dedicate alla nostra regione le critiche al Papa il prete è sospeso l'intervento dell'arcivescovo di Pescara dopo la rivolta dei fedeli di Montesilvano contro il vice parroco che ha attaccato Bergoglio che dice stanco sarà lontano da impegni pastorali Policlinico di Chieti Legnini visita il Polo Cuore è straordinario e poi Polizia i numeri di un anno di lavoro alla festa c'è anche Savina sulle cronache di L'Aquila il Renziano di Benedetto vince le primarie all'Aquila record di votanti battuto il consigliere regionale del PD Pietrucci energie per l'Italia la rete di Parisi tra politici e imprenditori vegano e bio bottiglie speciali per aiutare l'orso marzicano i giorni del vino due aziende abruzzesi siglano accordi per sostenere i programmi del parco nazionale d'Abruzzo e poi la missione Vinitali Grandi Nettari e Territorio il patto per la ripartenza di spalla un'avvertenza Abruzzo contro sisma e spopolamento i sindacati dicono mancano misure contro lo squilibrio delle aree interne di taglio alto a di architettura Laura Onoris Causa l'artista Ettore Spalletti e poi Pescara fredda e umida Pagnanelli rifiuta la stanza museo da presidente arriva la Juve vigilia calda prezzi alle stelle code a Pescara e caos biglietti titoli di apertura del quotidiano la città teramo il rimpasto non è servito niente numero legale in consiglio l'amministrazione Brucchi resta ostaggio degli scontenti e poi a Civitella la polizia celebra il 165esimo anniversario della fondazione gli eroi nell'emergenza accordi sibillini al comune di Notaresco il PD alla ricerca di una candidata a sindaco insieme ad AP la crisi a Teramo Mariani del PD dice non sarò certo Marilyn ma piaccio e poi per la prima volta si parla di minoranza in futuro in entro aprile sono in ballo le nomine alla fondazione di taglio alto la lite stradale ad albadriatica ciclista scaraventato sull'asfalto e pestato a Giulianova via libera al progetto globo in via Galilei Rosetto degli Abruzzi la vendetta di via Manzoni una raffica di molte il teatro Reggiani è guerritore e la Riccitelli chiude la stagione a tutto Allen vediamo ora i titoli di apertura dei quotidiani nazionali iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera le false prove nel caso Consi i PPM dicono depistaggio su Tiziano Renzi l'ex premier annuncia la verità viene a galla l'inchiesta è indagato un ufficiale dei carabinieri del Noe manipolata una intercettazione di Romeo e poi al G7 dell'Energia l'America blocca l'intesa sul clima la Repubblica l'accusa Tiziano Renzi falsificata da un carabiniere Consi, ufficiale indagato a Roma manipolò le intercettazioni che lo legavano a Romeo l'ex premier dice la verità viene a galla e poi Siria Trump minaccia altri raid al G7 nienti accordi sul clima la sentenza a Genova Cassi Matis vince il ricorso Grillo dice non sarà lei la candidata il messaggero atti falsificati su Tiziano Renzi Consi, pindagato un capitano dei carabinieri del Noe attribuita a Romeo una frase pronunciata da Bocchino i PM dicono manipolò le intercettazioni l'ex premier dice la verità vince difendersi in casa è sempre legittimo per due italiani su tre un sondaggio dice che per il 43% è giusto reagire con ogni mezzo va in aula la nuova legge e poi il dossier Siria accuse a Mosca sapeva dell'attacco di Assad con i gas il G7 a Roma gli Stati Uniti fermano l'accordo sul clima oggi in consiglio dei ministri nel documento economico finanziario crescita e spinta per le riforme manovra sì alle assunzioni nei comuni e poi la sentenza sulla candidata 5 Stelle a Genova riammessa la Cassimatis Grillo dice è fuori Movimento 5 Stelle sul lavoro meno potere ai sindacati un giorno indivisibile il titolo dell'unità Milano dai neofascisti vandalismi è l'obiettivo della sfilata il 25 aprile Corbetta il sindaco di destra sostituisce festa con il risotto e poi falsificate le prove dell'inchiesta Consip l'ex premier dice verità inizia a venire fuori il PD dice togliere i capilista bloccati onestà 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 il giudice dà torto a Grillo il tempo titola a babbo torto svolta Renzi Consip prove taroccate dal no e contro il papà dell'ex capo del governo indagato il capitano dei carabinieri manettari nel panico Matteo dice mio padre ha pianto e poi parla il carabiniere che fermò la fuga di Liboni continua la caccia all'assassino di Budrio ucciso il lupo e Igor è identico inseguendo il killer fantasma casa di Monte Carlo e milioni dei tullani interrogato finì il no comment dopo l'incontro con i PM Libero titola il PD è un cinepanettone volano gli stracci e gli straccioni perso il referendum idem hanno ricominciato a litigare Matteo non si è ancora ripreso Orlando cambia look ma resta triste Emiliano fa il ballo dell'orso e finisce in ospedale Speranza e Rossi vanno con Bersani però sono ancora dipendenti del PD a centropagina ero in cella con Igor vi dico chi è davvero parla l'ex compagno del killer di Budrio la stampa falsi indizi contro il padre di Renzi la procura dice il carabiniere carabiniere manipolava le informative Consip Matteo dice Grillo vergognati crisi dei 5 stelle a Genova il tribunale riabilita la candidata Cassi Matis dal voto del web per il comune a centropagina gli Stati Uniti bloccano l'accordo sul clima il sole 24 ore slitta la pensione anticipata ma per il governo il rinvio potrebbe essere solo di due settimane si allungano i tempi per il debutto dell'ape volontaria confermato l'avvio al primo maggio per l'ape social il mattino prove false su Tiziano Renzi PM manipolata l'intercettazione sull'incontro con Romeo l'ex premier dice la verità viene a galla Consip indagato a Roma un ufficiale del NOE che ha operato per conto della procura di Napoli Pignatone chiama Fragiasso il secolo XIX titola Caso Genova lo schiaffo al Movimento 5 Stelle il giudice dà ragione a Cassi Matis Grillo dice ma non sarà la nostra candidata annullato lo stop alla vincitrice delle comunari il rischio contagio e poi le false intercettazioni su Tiziano Renzi cade la prova regina sui rapporti con Romeo l'indagine riparte da zero il manifesto titola Castigatis Marica Cassi Matis vince la battaglia legale sulla candidatura sindaco di Genova il tribunale annulla la sua esclusione dalla competizione elettorale e boccia le comunarie bis imposte dai vertici 5 stelle Grillo non può decidere le candidature locali ma il leader nel caos non molla la gazzetta del mezzogiorno titola Renzi senior neguai un carabiniere l'ex premier la verità viene a galla nuovo scontro con il movimento 5 stelle legge elettorale disponibilità a eliminare i capilista bloccati e poi al terrorismo sale l'allerta Minniti dice minaccia non prevedibile stato di emergenza per tre mesi in Egitto il papa benvenuto l'avvenire i cristiani che resistono il fatto stato di emergenza in Egitto 47 le vittime nei due attentati alle chiesi copte il Daesh rivendica condanna dei vertici dell'Islam caso Consip furono falsificate le carte su Renzi padre il dubbio intercettazioni truccate per affossare Renzi caso Consip capitano dei carabinieri accusato di aver falsificato i dati a centro pagina Genova stop del giudice a Grillo Cassimatis resta in corsa ma Beppe non ci sta non è la nostra candidata il gazzettino Consip un falso contro Renzi carabinieri indagato attribuì a Romeo una frase pronunciata da Bocchino su un incontro con Tiziano lo sfogo di Matteo la verità alla fine viene a galla inventate anche le pressioni dei servizi la verità i ministri si scannano si scannano su come spennarci tutte le nuove tasse della manovra IVA tabacco giochi forse persino lo zucchero la pioggia di sberle in arrivo per obbedire all'Unione Europea e poi un tribunale stop a grillo a Genova il centrodestra ride iniziamo a sfogliare iniziamo a sfogliare le pagine del quotidiano il centro in apertura la festa della polizia per il 165esimo anniversario dalla fondazione 165 anni per la sicurezza sempre al fianco dei cittadini cerimonia nei quattro capologhi abruzzesi per l'anniversario della fondazione del corpo tra le sfide in campo quella della lotta contro le nuove forme di criminalità organizzata e poi Savina dichiara l'Abruzzo non è un'isola felice ma ci si può vivere bene parla l'altro dirigente Chietino vice capo della polizia che dice ecco perché in Italia l'Isis finora non ha fatto stragi i reati sono in calo ma l'insicurezza cresce così la nostra nuova frontiera è quella di entrare nelle scuole e parlare con i cittadini coinvolgendo anche i sindaci e poi ancora i delitti diminuiscono ma c'è più allarme i dati nazionali mostrano una flessione dell'8,6% confermata soprattutto dai numeri di Pescara e basta con i tagli degli uffici il SIULP chiede di investire sulle specialità e sulla questura di Pescara parla anche il COIPS che dice spente le luci in 30 sedi e allora ieri come detto nelle quattro province abruzzesi si sono svolte le celebrazioni proprio per l'anniversario delle forze di polizia noi c'eravamo vediamo oggi la festa della polizia in questa bella kermesse che è il laurum di Pescara una giornata di festa di riflessione con la polizia sempre al fianco dei cittadini sempre in strada la vicinanza la vicinanza alla gente e l'essere sempre vicino alle esigenze della cittadinanza come vedete dalle attività che siamo ponendo in essere voglio dire non mi pare che ci siano particolari criticità se non quelle derivanti da situazioni assolutamente fisiologiche e che per quanto riguarda Pescara posso dire di essere molto soddisfatto per i risultati raggiunti Lei da quando è arrivato a Pescara da pochi mesi ha subito deciso di impiegare ancora più uomini sulle strade nei quartieri più a rischio della città compatibilmente con le esigenze di servizio d'ufficio sì perché la polizia non è solo controllo del territorio è anche attività a servizio della gente negli uffici quindi compatibilmente cerchiamo di fare l'uno e l'altro bellezza di Pescara che io ho la fortuna di avere tutti i reparti quindi elicotteristi il reparto per agire crimine cinofoni tutti la cosa bella è questa l'auspicio del questore di Pescara per il futuro qual è? cercare sempre di migliorarci cercare sempre di stare vicino alla gente che non ci siano retaggi di sorta o diffidenze nel rivolgimento alla polizia perché la polizia ricordatevi è sempre al servizio della gente ancora sulle pagine del centro la politica e le carte bollate il giudice boccia grillo sulla lista di Genova Cassimatis la vincitrice delle comunarie riprende la corsa sindaco per il movimento 5 stelle il tribunale cancella la delibera del leader lui tira dritto dice non ci rappresenta nulla l'esclusione della sua lista decisa dal fondatore il successivo ripescaggio di Pierondini abbiamo trionfato su questione di diritto e adesso c'è grande entusiasmo e poi il caso Consip spuntano due falsi nelle accuse a papà Renzi i PM dicono frase dell'ex parlamentare Italo Bocchino è stata attribuita invece a Romeo indagato un carabiniere l'ex premier dice fiducia nella procura verità viene a galla il report parlava dell'incontro tra l'imprenditore Romeo il padre dell'ex presidente del consiglio falsi anche i pedinamenti dei servizi segreti e poi Renzi pronto a togliere i capilista attacca i pentastellati e rilancia sull'appoggio al governo e sulla legge elettorale i venti di guerra la Siria il G7 discute Assad usa il Napalm casa bianca possibili altre reazioni il cremlino dice negoziato unica via ma contro i ribelli il regime impiega armi vietate e poi il summit sull'energia il clima niente intesa e l'effetto Trump ma l'unione europea va avanti oggi a Mosca Mattarella incontra Putin l'obiettivo riannodare i fili del dialogo e poi il dissenso la Russia Navalny torna in libertà il blogger anticorruzione rilasciato dopo 15 giorni dice si riparte caccia caccia in tre provincia e zecchiale il serbo nuovo alias per il killer di Budrio ricercato per i due omicidi commessi in Emilia l'uomo dato per russo sarebbe balcanico e ha precedenti per rapine e stupro le bombe in Egitto al Sisi chiude le frontiere è stato di emergenza a Londra i funerali solenni per l'agente Palmer tributo della regina al poliziotto ucciso nell'attacco a Westminster in Svezia il killer confessa o agito per l'IS a Stoccolma piange le vittime della strage fermato un altro sospetto l'Abruzzo politica il centrodestra Parisi cerca alleati in Abruzzo incontra gli imprenditori un tour a Pescara e Chieti del leader di Energie per l'Italia è finita l'epoca in cui si aspettava la politica bisogna agire in bici sulla Tiburtina con la pista ciclabile Pescara Manoppello di taglio basso l'aereo atterrato senza carrello l'inchiesta colpa di una valvola e poi l'aeroporto in 12.000 sul Pescara Torino e per l'inverno si studia il quarto volo e allora l'aeroporto internazionale di Abruzzo ieri un resoconto dei primi sei mesi del collegamento con Torino e a parlare c'erano anche i dirigenti della Bluer vediamo sei mesi di collegamento Pescara Torino per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo arriva il primo resoconto della società impegnata a garantire i voli con lo scalo piemontese che rappresentano un buon transito da parte dei passeggeri i dati ufficiali sono un buon riempimento macchina abbiamo notato una buona soddisfazione del passeggero che finalmente ha su questo asse Torino Pescara un volo regolare di linea abbiamo notato ripetizione di passeggero quindi un passeggero molto fedele che utilizza il nostro volo frequentemente in questi sei mesi abbiamo trasportato tra i due assi circa 12.000 passeggeri che per noi è un risultato molto buono soddisfacente che ci fa vedere il futuro con più interesse e con positivismo se è vero che i numeri danno ragione a Bluera e Saga è vero anche che lo Scala Abruzzese ambisce a un crescente numero di passeggeri e alla luce della buona risposta ottenuta ora si valutano nuovi scali e nuove offerte da parte della compagnia romena che non esclude l'ipotesi di collegamenti internazionali Pescara in questo momento l'aeroporto che offre al passeggero destinazioni ma non sufficienti per quello il passeggero vuole chiaramente noi come Bluera siamo attenti a questa dinamica sia sul domestico che riteniamo interessante esistono destinazioni ancora lasciate scoperte sia sull'internazionale e parlo soprattutto anche di capitale europee che in questo momento esistono ma non a sufficienza quindi chiaramente la direzione potrebbe essere questa e ora in provincia di Chieti il progetto Noemi nessun fondo per l'assistenza dei bambini zero euro tondi tondi a bilancio nella voce che riguarda il finanziamento degli assegni mensili alle famiglie che assistono H24 disabili gravissimi in età pediatrica lo dinuncia la Onlus progetto Noemi l'associazione preseduta da Andrea Sciarretta in prima linea per ottenere cure migliori e assistenza per bimbi con patologie gravi come la piccola Noemi figlia di Sciarretta quattro anni e mezzo affetta da atrofia muscolare spinale il Vini Italy il Montepulciano conquista Cina e Giappone gli importatori asiatici confermano l'attenzione verso il prodotto abruzzese per col diretti il nostro rosso è il vino italiano che dà più lavoro a livello locale e poi arriva la manovra per l'Unione Europea il governo presenta oggi l'intervento da 3,4 miliardi e il documento economico i giovani e il lavoro il presidente dell'Inps dice un buon incentivo con tutele crescenti ancora sulle pagine del centro ora andiamo sulle cronache di Pescara senza dimora proprietario vuole vendere alloggio ma non può entrare è occupato uno dei padroni va a controllare l'appartamento che si trova ai margini della zona pedonale dopo aver forzato il lucchetto trova nelle stanze materassi tracce di cibo stracci e spazzatura il maggior Agostino ne dice un fenomeno in crescita e riceviamo numerose segnalazioni da parte dei cittadini ci sono perfino accampamenti in tenda e nella ex casa di riposo spuntano anche letto e tv il complesso di via Rapietra bonificato e murato di nuovo dal comune dopo le segnalazioni dei residenti ma l'elenco degli edifici presi di mira è lungo lavoraggine nascosta di via Piave la vecchia palazzina il tetto completamente sventrato e rischia di implodere e poi terreno occupato in via Prati e c'è anche chi dorme in tenda bussi l'indagine epidemiologica su 20 comuni della Val Pescara sono 260.000 i residenti che hanno bevuto l'acqua del campo Pozzi Sant'Angelo l'ACA ha fornito all'Istituto Superiore di Sanità i dati per avviare la valutazione dei fenomeni di contaminazione e poi il lutto nel mondo del rugby è morto a Pescara Roberto Cinelli Stalking minacce scritte sui muri o il terzo arresto per l'ex di taglio basso l'intervento dell'assessore strada parco nessuna bocciatura a parlare civitarese dalla Corte dei Conti un monito a sciogliere i nodi irrisolti Sanità e sociale la vertenza Abruzzo arriva in piazza il 29 aprile mobilitazione unitaria dei sindacati CGL Cislewil a difesa degli ospediali e per il rilancio degli investimenti l'hanno chiamata a vertenza Abruzzo a presentarla sono stati i segretari dei sindacati CGL Cislewil e tanti punti all'attenzione per il rilancio dell'Abruzzo hanno stilato un decalogo questi sono alcuni punti sentiamo ancora Abruzzo nell'emergenza ancora misure straordinarie chieste al governo per ripristinare equilibri in un territorio martoriato da danni climatici eccezionali che destabilizzano economia vivibilità e futuro dopo i fatti del mese di gennaio CGL Cislewil si uniscono in un decalogo di priorità da affrontare e di obiettivi da raggiungere in tempi brevissimi per non lasciare soli tutti i territori colpiti nell'emergenza terremoto e maltempo che oggi hanno definito vertenza Abruzzo noi chiediamo di rilanciare tutto ciò che abbiamo fin qui determinato per esempio attraverso la programmazione delle risorse comunitarie la carta di Pescara le aree di crisi complesse e le aree di crisi semplici ma dotandoci anche di altri strumenti che possono rilanciare l'attività produttiva noi nella nostra piattaforma ad esempio indichiamo le zone economiche speciali per le aree colpite dal terremoto che possono attirare lì nuovi investimenti investimenti di qualità investimenti produttivi che possano determinare una nuova fase di sviluppo noi chiediamo alla giunta regionale un'accelerazione su questi temi per incominciare a renderli operativi e per incominciare ad avere ritorni positivi per l'occupazione e per il sociale quali saranno gli interlocutori per tutte queste operazioni oltre alla regione Abruzzo? io credo che un pezzo di ragionamento vada aperto anche con il governo nazionale che ha iniziato a fare un percorso positivo con il miliardo di euro stanziate per le aree del cratere e quindi il governo insieme alla giunta regionale sono per noi le controparti naturali sui quali affrontare questi temi bisogna utilizzare gli strumenti che il governo ha messo in piedi per fare una politica di prevenzione fare un'intesa con le regioni dell'Italia centrale per avere la capacità di un intervento a più lungo periodo c'è anche il tema del fatto che bisogna evitare assolutamente che l'emergenza ci faccia rallentare l'impegno sulla ripresa lo sviluppo la politica dei due tempi sarebbe molto pericolosa dobbiamo assolutamente evitare che ciò accada e per questo stiamo attivando tutta una serie di tavoli di verifica per vedere se si prosegue in questa direzione ancora sulle cronache di Pescara i campi di calcio e palestre scattano i mini rincari il comune aggiorna i canoni per gli impianti sportivi aumenti in media di 3 euro piccoli incrementi anche per le aziende che installano stazioni radio per cellulari e poi nuovo asfalto per via dei Peligni domani all'alba apre il cantiere concluso l'intervento in via Colle innamorati a Pescara la capogruppo sabbatini del movimento 5 Stelle Berardi era incompatibile si è dimessa irregolare la doppia carica di vicepresidente Tari la prima rata è scaduta e da oggi si rischiano sanzioni la festa della polizia gli encomi solenni per Pavone Noni e il dirigente Muriana 21 i riconoscimenti assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale di Pescara a Francavilla le firme contro Palazzo Sirena raccolte con una bugia a Francavilla il comitato contrario all'abbattimento attacca Luciani non è vero che il palazzo è chiuso da 30 anni un sindaco non può ingannare i cittadini e poi erosione della costa Padovano difende il comune ora il ripascimento il comune di Montesilvano proteste dei fedeli durante la messa il parroco sospeso per le critiche al papa Don Edward Pusparai messo a riposo dal vescovo dopo aver definito nell'omelia Francesco un male per la chiesa Monsignor Valentinetti ha detto spero che sia solo stanchezza e auspico che il sacerdote possa confrontarsi con me sulla sua rabbia per le scelte del pontefice i riti di Pasqua il colle abbraccia la via Crucis riuscita la sacra rappresentazione della passione tra i vicoli e poi prognosi di 40 giorni anziano ostionato dal fuoco mentre brucia le sterpaglie di taglio basso recinto antivandali al campo di via Spagna partiti i lavori di riqualificazione dell'area sportiva Concezio Pincione potatura sul lungomare e poi via De Filippo sbloccati i lavori per rifare la strada parte l'intervento tanto atteso nella zona di fronte al centro commerciale Arca Mascio Vecchio dice la prima fase poi realizzeremo un campo sportivo e un parco ancora sulle cronache di Spoltore servizi socioassistenziali Spoltore Ente Capofila e poi ancora sul comune in questo caso di Cappelli sul Tavo meno cara per tutti la Tari 2017 Cappelli sul Tavo il sindaco agli oppositori dice assurdo criticare le riduzioni di tasse prezioso dipinto del 400 al restauro entro l'anno a Caramanico la Madonna del Cardellino vince il concorso di intesa a San Paolo che finanzia il lavoro sull'opera cura della soprintendenza Belle Arti di Chieti l'ospedale di Popoli Galli dice nuovi spiragli con l'atto aziendale appenne scuola bus dipendenti senza stipendio l'assessore rassicura gli autisti dell'Intercop istituto Marconi oggi assemblea al Palasport premia da tessa per l'upassatempo la rassegna dialettale il drago d'oro a manopello delegazione del comune ad amatrice donazione per la popolazione termotata le cronache di Chieti il futuro della sanità pubblica Legnini elogia il polo del cuore un centro di grande qualità il vicepresidente del CSM visita con Paolucci la nuova struttura nata accanto al policlinico ed Alfonso rilancia il progetto Maltauro sarà la gara a dire chi costruirà il nuovo ospedale il ciclista Carletti è fuori pericolo in rianimazione dopo la caduta in gara gli amici tifano per il campione 65enne tragedia da tessa cade dalla bicicletta e muore ma allora è fatale ad un ex operaio le cronache della provincia di L'Aquila le primarie PD di Benedetto Batte Pietrucci il presidente della Gran Sasso Acqua lavoreremo uniti per il bene della città e poi Pietrucci dice ora vinciamo tutti insieme De Santis voto di sinistra spostato al centro mai le primarie del centro-sinistra sono state così partecipate questo in un momento di disaffezione per la politica in cui il partito più grande è quello del non voto non vi è stata alcuna ingerenza del centro-destra nel voto piuttosto un sussulto di dignità civica alla voglia di rendere l'Aquila più inclusiva e aperta verso l'esterno di taglio basso i fondi alla cultura e 5 stelle contro il comune i grillini no alla distribuzione a pioggia tempi troppo stretti per le domande e i conflitti di interesse andiamo a Teramo la sanità del futuro ospedale ecco il progetto il presidio unico avrà 600 posti 14 sale operatorie e costerà 220 milioni di euro e poi azioni ex tercas oggi via al processo imputati per truffa l'ex direttore Di Matteo e altri 27 tra ex dirigenti e dipendenti previsti 200 testi noi ci separiamo per una piccola pausa e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco seconda parte della nostra rassegna stampa ora ci spostiamo sulle pagine del messaggero in apertura l'Abruzzo migliore fa bella mostra di sé Alvin Italy di Verona area di festa al padiglione 12 in un clima di entusiasmo grandi nettari e territorio siglato il patto per la ripartenza 90 le cantine al salone internazionale 15 le aziende oleare presenti a sole e agrifood e poi ancora Parisi lancia da chieti energie per l'Italia nuovi scenari pranzo con 100 imprenditori a Pescara anche per finanziare il movimento un disastro la comunicazione in caso di emergenza manca condivisione scarsa attenzione dei comuni presentati i risultati dell'indagine realizzata grazie alla piattaforma informatica dell'Ateneo di Teramo a Pescara la pista ciclabile sul corridoio verde allo studio un percorso riservato alle due ruote per collegare l'area di risulta fino alla d'annunzio dove sorgerà un hub la filovia correrà sulla strada parco per poi incalanarsi su Corso Vittorio e Viale Marconi un'opera da completare l'assessore Stefano Civitarese al tour dei ponti di Pescara Bici dice urgono interventi di manutenzione e poi Sabatini la spunta sull'incompatibilità Berardi non è più vice in commissione di spalla l'esperimento l'università ridisegna le periferie con i ragazzi ospiti dei corsi di urbanistica le quinte elementari dell'istituto comprensivo Pescara 1 i grandi di Pescara una laurea onoris causa per il maestro Ettore Spalletti il 4 maggio ad architettura la cerimonia per l'occasione l'artista aprirà le porte dello studio in calo rapine e furti preoccupa la Movida per la festa della polizia i dati e l'intervento del questore Misiti fotografano lo stato della sicurezza in città premi agli investigatori impegnati nelle inchieste su politica e affari il messaggio giovani purtroppo vedo crescere una cultura del branco e poi la storia simbolo così ho salvato la donna che voleva far saltare in aria tutto il palazzo promosso per meriti il vice sovrintendente Massimiliano Cianfaglione salito con un agro fino al sesto piano Comune di Pescara Pagnanelli rifiuta la sala Ternum è umida e fredda il neopresidente del consiglio comunale ha bocciato il locale museo voluto da Di Biase a Montesilvano sospeso dal vescovo il prete antipapa Valentinetti dice irrinunciabile per un prete il dovere di comunione con il santo padre il provvedimento dopo la rivolta dei fedeli è stanco serve un periodo di riposo lontano da impegni pastorali e poi la settimana santa appena in Loreto le processioni in memoria delle vittime di Rigopiano la curia scelta di vicinanza a un territorio duramente colpito dalle sciagure invernali la palla ovale il lutto l'addio a Cinelli pioniere del rugby a Pescara e poi le giunte inquiete l'altolà a Maragno bilancio a rischio consiglio in bilico per il sindaco incerto l'appoggio dei dissidenti guidati da Anthony Aliano l'Aquila PRG espansione solo nelle frazioni previsti 137 mila abitanti in futuro presentati i contenuti del documento la palla passa alla nuova amministrazione sulle casette non ci sarà una sanatoria ma per quelle regolari si apre una possibilità l'edificabilità non riguarderà la zona centrale in ogni caso non intaccherà il vecchio agricolo e poi soldi per la cultura la denuncia dei 5 stelle fondi del 4% ad attività già fatte i civici l'Aquila chiama candidato a sindaco Carla Cimorini e poi il bilancio festa della polizia una lotta alle mafie il caso doppio lavoro la ASL licenzia Pierluigi Tancredi le primarie incoronano di Benedetto scrutinio al fotofinish parità in quasi tutti i seggi alla fine l'ex sindaco di Acciano vince per circa 700 voti le prime parole a caldo dopo il successo sono un risultato da accogliere con entusiasmo ma anche con responsabilità e poi gli infiltrati di Luzio Ruggeri Lombardi alle urne altro che in Ciucci ci premuniamo il post polemico di Benedetti accende la polemica la replica scegliamo l'ipotesi migliore per il futuro il centro-destra Bergamotto rinuncia non c'è coesione non mi candido Forza Italia accorrerà da sola i salviniani verso Bindi l'affondo del giornalista dice mi ero riservato di valutare solo in caso di convergenza e poi Guido Liris potrebbe tornare in gioco come proposta degli azzurri a Davizzano ex Montessori sarà luogo di cultura addio sporcizia lavori terminati l'edificio rimesso a nuovo grazie a Carispa che è a Fondazione Irti ora è uno splendore a partire da domani un'aula dove darsi appuntamento per conferenze diventa il centro polifunzionale urbano a Sulmona carta igienica sul furgone in spregio a una disabile e poi ancora a Sulmona il certamen a Roma vince una ragazza la delegazione in Campidoglio accolta dal vice sindaco Bergamo Gaia Maria Marianacci super latinista sempre a Davizzano De Angelis Latari aumenta queste le dichiarazioni e poi Petrella Don Francesco finisce fuori strada ed è grave a Chieti il questore droga e movida il fenomeno è in aumento il vice capo della polizia Luigi Sabina interviene alla festa sul terrorismo il nostro sistema funziona Raffaele Palumbo dice la domanda di stupefacenti arriva soprattutto dagli universitari fuori sede e poi la sanità Legnini visita il polo cuore dice è straordinario ancora per la politica di primio intesa con Parisi rilanciamo il centrodestra e poi l'interdizione troppo forte del vecchio punta sul riesame questo è il caso dell'università a vasto braccati dai ladri dormiremo nel bar sale l'esasperazione dei fratelli Nanni dopo l'ennesimo tentativo di scasso l'altra notte nel loro locale quattro persone incappucciate inquadrate dalle telecamere hanno provato ad entrare dal retro e poi dall'ingresso principale sette visite in tutto giovedì e domenica gli ultimi assalti danni a tre porti i titolari dicono nessuno vede o sente nulla e poi muore e dona le corne come ultimo atto d'amore lanciano all'ospis salva chiara la settimana santa il miserere di bellini domani nella basilica riti sacre e tradizioni a lanciano e ortona tra processi vegli e messe con l'arcivescovo emidio cipollone a lanciano degrado e ztl lascom alza la voce sempre a lanciano la onda chiede 10 milioni a di lorenzo il caso della truffa danno dell'azienda proda dal gupp il 29 maggio 8 gli imputati teramo i dissidenti stoppano subito il brucchi quater salta il consiglio manca immediatamente il numero legale il capogruppo pd d'alberto dice credo che brucchi debba andare a casa falasca dice sbaglia sbagliato seguire la logica dei numeri serve la condivisione dei progetti e allora ieri un consiglio comunale deserto a teramo queste le interviste di tania buonici castelli vediamo non c'è pace al comune di teramo anzi non c'è più maggioranza oggi il consiglio comunale che avrebbe visto schierata la nuova giunta a nove assessori è stato rinviato per mancanza del numero legale alcune assenze eccellenti proprio tra i consiglieri di centro-destra non hanno fatto raggiungere il quorum necessario a svolgere la seduta e così decisioni importanti per la città slittano a fine mese provo un grandissimo imbarazzo per questa maggioranza non posso far a me sentimi imbarazzata al loro posto che invece apparentemente sembra che non impermeabile a qualsiasi brutta figura e questo è vergognoso cioè che a un certo punto si è arrivati a riproporre una giunta a nove assessori quindi il massimo consiglio della legge in questo frangene in cui siamo in una fase che lo stesso sindaco ha definito di predistesto perlomeno di fatto l'unico pensiero è quello di tacitare le pretese di chi anche dall'alto vuole manovrare questo consiglio questa giunta è vergognoso l'entrata di ulteriori due assessori in giunta Alfonso Di Sabatino e Silvio Antonini non ha affatto rafforzato la maggioranza del sindaco Brucchi anzi l'ha resa fragile e traballante e la mancanza di numero legale di oggi ne è stata la dimostrazione il primo cittadino però spara a zero sull'opposizione chi è il responsabile è questa opposizione perché vuole condividere i percorsi durante le commissioni vuole condividere il piano scuole vuole dire la loro in certe situazioni poi però quando si tratta di assumersi alcune responsabilità io so bene che il numero legale lo deve garantire la maggioranza non sto dicendo questo sto dicendo però che il senso di responsabilità si manifesta sempre non solo quando fa comodo il sindaco accusa l'opposizione vi accusa di non prendervi le vostre responsabilità in favore della città è paradossale assolutamente paradossale il sindaco ovviamente sta tentando di spostare l'attenzione su un'altra questione il vero problema è che il sindaco non ha più la maggioranza in questo consiglio comunale e non è stato neppure sufficiente allargare al massimo la giunta con costi a carico dei cittadini terramani per poter avere oggi in questa prima istituzione del consiglio comunale la maggioranza ancora sulle pagine del messaggero alta attenzione contro il rischio terrorismo proseguono i controlli e poi i reati sono in calo ma adesso bisogna ripartire il questore De Simone tira il bilancio a Civitella del Tronto una cerimonia dedicata all'agente Settimio Passamonti l'emergenza sciacallaggi nelle case abbandonate a Giulia Nova PD articolo 1 venti di guerra sul porto i consiglieri Dem Mariani Monticelli e Pepe sostengono che il presidente Verticelli il consigliere Core dovrebbero dimettersi erano del partito democratico e dopo la nomina hanno cambiato Verticelli dice pronto a farlo ma nessuno mi accusi di opportunismo convocata intanto l'assemblea nella quale si discuterà la fiducia sempre Giulia Nova la prima camminata verde festa di gente e di colori ad alba rifacimento stradale completo entro l'estate Federica Ciapanna assessore ai lavori pubblici dice non saranno creati problemi alla circolazione ci spostiamo sulle pagine del quotidiano la città gli italiani preferiscono i vini DOC e DOCG dai dati emersi al Vinital i prodotti con riferimento territoriale sono quelli che crescono maggiormente per la grande distribuzione gli italiani comprano il vino soprattutto nei supermercati nel 2016 hanno acquistato dagli scaffali della grande distribuzione oltre 500 milioni di litri spendendo in totale un miliardo e mezzo di euro e poi la proposta di MC promuovere il territorio con i percorsi dedicati al vino a terra ma il rimpasto di giunta non è servito a niente assenti gli scontenti di maggioranza sbraccia e falasca il consiglio comunale non ha i numeri per iniziare per la prova del 9 alla prima uscita della nuova giunta dopo il rimpasto il sindaco Brucchi presidente del forum dei giovani la polizia celebra gli eroi dell'emergenza ieri mattina a Civitella del Tronto la festa per il 165esimo anniversario della fondazione del corpo ciclista appestato sul lungomare Marconi ad Albadriatica prima lo scaraventa a terra poi con una sportellata e poi lo aggredisce con un pugno a Martinsicuro il pediva al voto senza l'appoggio della sinistra Truentina salta definitivamente l'accordo con MDP e sinistra italiana sul nome della foglia per la cronaca Noreto investito mentre fa jogging con le cuffiette un 48enne del posto ricoverato nel reparto di rianimazione di Teramo si trova in gravi condizioni a Tortoreto Daniela Mignini dice no alla proposta di Piero di Nicola e poi a Giulianova via Galilei via Libera al progetto Globo la giunta prova le urbanizzazioni primarie del comparto Mare Blu i numeri via Libera alla cessione di 4.800 metri quadri di questi 1.800 saranno destinati al verde attrezzato l'appello sospendete la delibera sulle assunzioni comunali Laura Ciafardoni chiede di rivedere il piano dando priorità ai precari allontanati ancora grande successo per la prima camminata verde ancora Giulianova prima edizione del progetto per contrastare l'abbandono dei rifiuti per strada per la politica Sottanelli perde Francioni e inizia a corteggiare Fabrizio Retco una raffica di multe per divieto di sosta in via Manzoni dietro il pugno duro dei vigili contro i trasgressori c'è la vendetta dei residenti contrari all'ordinanza questo sulle cronache di Roseto ancora per Roseto degli Abruzzi quel dosso inutile che allaga via Flavio Gioia i cittadini di Campoammare sollecitano il sindaco di Girolamo per la sua rimozione a notaresco accordi Sibillini al comune contatti TAPD e AP per la candidatura sindaco di Sibilla Di Marco appoggiata da Ginoble la Di Marco e moglie dell'ex candidato sindaco Sposetti e segretaria di Luciano Monticelli per notaresco si spacciava per mafioso per chiedere il pizzo ai commercianti cronache di Silvi un risparmio di 300 mila euro per la riqualificazione dell'illuminazione e poi ad Atri cominciati i lavori sulle strade di Atri e Pineto la provincia avara gli interventi in somma urgenza previsti quasi 1,8 milioni di euro la cultura reggiani e guerritore a tutto allen le attrici in scena con mariti e mogli chiudono la stagione di prosa della Ricitelli e poi un plauso al parco gli scenari del Gran Sasso nel libro di Limberi lo sport il Teramo col Forlì sarà una vera finale la gara con la Reggiana ha dimostrato che anche un punto può fare la differenza e intanto il ruolo del trequartista diventa un vero e proprio rebus per i biancorossi vediamo le pagine dello sport nel quotidiano il messaggero si inizia dalla Serie A il Pescara adesso mi piace Sebastiani elogia il lavoro di Zeman nelle ultime gare abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno i rimpianti di Bruno a Empoli è mancata la giocata vincente sabato serve lo spirito che il Crotone ha avuto contro l'Inter ho chiesto di dare tutto sabato con la Juventus anche evitare l'ultimo posto è un obiettivo e allora proprio per il match contro la Juventus ieri Paolo Lorenzetti ha ascoltato il presidente Sebastiani vediamo presidente Sebastiani è la settimana questa che conduce la gara con la Juventus nonostante la delusione per il pareggio di Empoli ora si guarda questa partita stadio pieno file lunghissime per acquistare i biglietti è una settimana comunque particolare sì purtroppo in queste partite con la capienza dello stadio e con il numero degli abbonati non possiamo rispondere a tutte le richieste però è importante avere lo stadio pieno perché ci aiuta ha aiutato anche contro il Milan speriamo che si possa ripetere anche contro la Juve sicuramente adesso avremo due partite sulla carta proibitive abbiamo mancato l'appuntamento più importante di Empoli dove sicuramente se c'era una squadra che meritava di vincere quella era il Pescara però purtroppo non abbiamo non abbiamo fatta la vittoria e quindi siamo lì a recriminare adesso sono due partite importanti perché no non sognare come hanno fatto le altre possiamo farlo anche noi i rimpianti noi li dobbiamo avere su noi stessi perché nel corso di questo campionato abbiamo avuto tante occasioni abbiamo sbagliato cinque rigori giusto per dirne una e sicuramente avremmo avuto potuto avere qualche punto in più che ci portava al ridosso dell'Empoli che sta lì è la quart'ultima però quello che non è successo può ancora succedere quindi noi ci dobbiamo credere fino alla fine non mi spaventa il dover lavorare lo facciamo sistematicamente da nove anni a questa parte e ancora di più da cinque anni a questa parte da quando sono diventato presidente quindi il Pescara col suo staff lavorerà per allestire una formazione competitiva anche il prossimo anno qualsiasi sia il campionato di appartenenza ora la Lega Pro e il Teramo passo indietro ma si può rimediare Biancorussi hanno pagato i tre impegni ravvicinati e qualche scelta di Ugolotti non ha funzionato ma una vittoria sul Forlì può rimettere le cose a posto vediamo anche la pagina dedicata allo sport del quotidiano il centro presente e futuro Sebastiani dice desideravo un Pescara stile crotone lunedì il presidente in Cina per stringere nuovi accordi commerciali al contrario del delfine i calabresi lottano per la salvezza Falcinelli se tornassi indietro lo prenderei il viaggio in oriente sarà un'occasione per trovare nuovi sponsor e c'è l'idea di un progetto per una scuola calcio e poi sabato la Juventus in 20.000 all'Adriatico biglietti finiti in un'ora tra code e proteste alcuni tifosi hanno trascorso la notte davanti ai punti vendita e poi il dubbio buyback con i bianconeri bovo out e c'è coda i bianco-rossi in frenata col forligara della vita la Lega Pro la Corsa del Diavolo sabato il Teramo si gioca il futuro con tre punti può ipotecare la salvezza diretta Ilari recrimina per la sconfitta contro i reggiani sprecata un'occasione molto importante oggi la ripresa degli annennamenti a porte chiuse è da valutare le condizioni dell'esterno Petrella il K.O. contro la reggiana grazie ai risultati delle avversarie non ha compromesso le chance di permanenza nella categoria e poi per la serie D le abruzzesi dei gironi a FG Paris attacca i giocatori pensate a fare punti a Vezzano Caos la squadra si è lamentata per la trasferta in Sardegna il patrone ha detto il comunicato è un fatto gravissimo messa in cattiva luce la società e allora con lo sport noi come sempre concludiamo la nostra rassegna stampa prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 invece la rassegna stampa torna domani mattina puntuale alle 7 buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.